L'essere sovrappeso e l'obesità si confermano fattori di rischio per il Covid-19. 9 decessi su 10 per coronavirus si sono verificati in paesi con alti livelli di obesità. È il risultato di una ricerca rilanciata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che stabilisce la stretta correlazione tra l'eccessivo peso corporeo e i decessi per Covid. L'età viene considerata come il fattore che più influisce sugli esiti gravi della malattia ma la nuova ricerca mostra per la prima volta come l'obesità sia il secondo elemento da prendere in considerazione, da qui la richiesta di una corsia preferenziale nelle campagne di vaccinazione per chi è in sovrappeso. Lo studio della World Obesity Federation che raccoglie scienziati, medici e ricercatori di oltre 50 associazioni di settore ha mostrato che i tassi di mortalità sono 10 volte più alti dove almeno il 50% della popolazione è in sovrappeso. Anche l'analisi degli ultimi dati sulla mortalità per Covid della Johns Hopkins University e di quelli dell'Osservatorio sulla salute globale dell'OMS hanno rilevato che 2 milioni e 200 mila dei 2 milioni e mezzo di morti globali avvenivano in paesi con alti livelli di obesità. Tra i paesi europei presi in esame l'Italia spicca per i dati di mortalità con 122 decessi su 100 mila abitanti.